Buongiorno, ben ritrovati per Occhio ai Giornali, l'appuntamento quotidiano di prima mattina con i quotidiani che troveremo in edicola, li sfoglieremo insieme, però prima il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi mercoledì 8 luglio, Sant'Adriano, Papa, il sole è sorto alle 5.33 e tramonterà alle 20.53, vediamo subito le temperature che si presentano subito impegnative, sono le 7.30 della mattina, ci sono già quasi 27 gradi, l'umidità però è del 57%, quindi ancora su valori sopportabili, infatti la diascalia dice caldo sopportabile, però come vedete partiamo subito da valori molto alti e probabilmente anche oggi sarà una giornata impegnativa dal punto di vista delle temperature, il cielo si presenta così, bello, terzo e limpido in questo momento, vediamo le previsioni per oggi, cielo sereno, poco nuvoloso, deboli nubi nelle zone interne, precipitazioni assenti e le temperature in aumento, previsioni per giovedì, il cielo è inizialmente nuvoloso, diminuzione della nuvolosità nel fine settimana, nella fine mattinata, a cominciare dai settori settentrionali della regione, però vedete compare la simbologia della pioggia, quindi precipitazioni nella prima parte della giornata, possibilità di isolati rovesci o temporali, le temperature probabilmente anche per effetto della pioggia, sono con tendenza in diminuzione, venerdì, venerdì invece ritorna il sole pieno, sereno, poco nuvoloso, solo sui rilievi ci sono addensamenti cumuliformi, precipitazioni assenti senza pioggia e quindi la giornata di venerdì e le temperature saranno stazionare sui valori medi, la tendenza per i giorni a seguire è probabile lieve peggioramento nella giornata di lunedì a seguito di un ritorno di condizioni di tempo stabile e soleggiato e quindi vedremo quale sarà la prosecuzione del weekend. Partiamo dalle pagine del resto del Carlino, oggi il messaggero non era disponibile in formato digitale, quindi guarderemo soltanto messaggero e corriere adriatico, vediamo dalle pagine di Fano, pensionati in rivolta siamo vessati dal fisco firme per la campagna della CISL sulle tasse giuste e quindi l'indagine dice secondo gli studi di zona se ne va il 20% degli introiti pensionistici in fisco e quindi sicuramente una fetta importante in comune. Sindaco per un giorno sarà Isabel Persi, domani entra in servizio, sarà una giornata impegnativa che si concluderà a fine serata con un consiglio comunale e poi in piepagine i carabinieri hanno avuto il loro bel da fare rallentando i convogli in transito per salvare la vita a un cinquantenne, è venuto lunedì pomeriggio, i carabinieri hanno appunto dovuto rallentare tutti i convogli in transito, il cinquantenne prima di tentare l'insano gesto avrebbe consegnato un bigliettino alla barista con lo scritto qui dice vi ho voluto bene, quando mi ritroverete avvisate questi due numeri, dal di lì è scattato l'allarme, la barista si è un po' spaventata, ha chiamato subito i carabinieri e fortunatamente sono arrivati in tempo. Ancora nelle pagine di Fano, ieri è stata una giornata in cui si è dato il via, il là ai lavori socialmente utili con i migranti presenti nel nostro territorio e quindi profughi giardinieri già all'opera, obiettivo integrazione con il lavoro, il tutto è avvenuto ieri mattina nella zona verde di Cucurano, non saranno retribuiti, è un lavoro volontario a favore della comunità che li ospita, erano quattro dei 32 profughi ospitati nelle strutture di accoglienza di Magliano e Belgatto e quindi si è dato il via a questa operazione. Duello in famiglia, qui di spalla la politica tra Rapa e Minardi, alla fine la spunta il candidato del PD, quindi Renato Claudio Minardi che è stato eletto vicepresidente della regione Marche. l'altra pagina del resto del carlino, pagina 11 che guarda un po' anche all'interno del territorio, Forni Fontana, un'eccellenza territoriale nell'ambito delle aziende che producono Forni, insomma marchigiani dell'anno, sono stati eletti un ulteriore riconoscimento a questa bella azienda, questa bella realtà territoriale, la storia della ditta di San Lorenzo in campo, domani riceve il premio a livello nazionale. E quindi auguri e complimenti a loro. Andiamo nelle pagine del resto del carlino per quanto riguarda Pesaro, una dicronaca che ci dice che un artigiano di Tavoleto ha parteggiato due anni senza tentata per tentata estorsione, ricattava un medico per ripicca. E poi occupano il casolare per un progetto d'amore, stiamo parlando dell'associazione Pre-Madam, imputati per aver invaso casa e terreni. E domani alle ore 15.30 all'obitorio sarà possibile dare l'ultimo saluto al maestro del coro Paolo Vero e quindi partenza alle 15.30 dall'obitorio verso il cimitero per quanti vogliono salutare per l'ultima volta lo scomparso maestro. Una bella storia che nelle pagine del resto del carlino viene evidenziata. Si tratta di un atleta che combatte con il diabete mellito e ha voluto fare partecipi un po' in tutta Italia coloro che soffrono di questa malattia per dare un esempio che si può vivere una vita normale pur soffrendo di questa malattia. Ha fatto tappa a Pesaro volando sulle onde della vita, parla Monica Priore, giovane atleta che lotta contro la malattia e la malattia appunto è quella del diabete mellito. Lo sport migliora la qualità della vita e io ne sono la prova, la vedete qui in azione in acqua mentre gareggia. E ha fatto appunto tappa a Pesaro perché dice io gareggio con altre ragazze libere da questa patologia e quindi si può fare una vita normale. Ne sono l'esempio e quindi la sua storia, la sua vita raccontata in questo libro che può essere utile a tante persone che soffrono di questa patologia e che hanno mille dubbi, mille domande. Ecco, leggete questo libro e avrete alcune risposte. La seconda testata che prendiamo in considerazione questa mattina, vi dicevo il messaggero, non c'è, è il Corriere Adriatico. Saltano i trasformatori, parliamo del caldo che occupa la pagina quasi intera dell'edizione pesarese del Corriere Adriatico. Alle alte temperature hanno provocato un blackout di oltre due ore, bloccando i ponti che trasmettono i segnali di ogni canale e quindi tutta la vallata senza televisione. Le prime avvisaglie del problema intorno alle 19 con immagini squadrettate mezz'ora dopo il buio, ma non è soltanto la televisione, i ripetitori televisivi a soffrire il caldo oltre alle persone, ma anche i climatizzatori che non ce la fanno a assicurare temperature adeguate, soprattutto nei reparti ospedalieri, anche le sale operatorie sono state fermate perché lì la temperatura deve essere molto bassa. Reparti come forni a Pesaro, forti disagi nella divisione del padiglione F e a Fano appunto si boccheggia in medicina e lungo degenza, estate bollente appunto sotto tutti i punti di vista. A Pesaro appunto creata un'area per le bici al campo di Marte, Baia Framinia si pedala o si usa la navetta dopo il caos di due domeniche, fa messi a disposizione 168 stalli per le biciclette. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, rinasce la chiesa di Sant'Ubaldo, siamo sempre a Pesaro, approvata la mozione di Andreoli, nuovo centrodestra, approvata in consiglio all'unanimità. Si va verso la valorizzazione della chiesa di Sant'Ubaldo, no all'idea di ospitare i migranti nel padiglione dell'Expo e si prende tempo sulla questione dei cordoli lungo la statale Adriatica all'altezza di Villa Caprile. Questa questione degli stalli aveva creato qualche polemica i giorni scorsi sulla loro pericolosità e sulla loro necessità. Vedremo come andrà a finire. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico vediamo quelle che riguardano Fano. Buon compleanno Mediateca, un happening speciale per festeggiare appunto i cinque anni della Mediateca Montanari. Fu inaugurata allora dal sindaco Stefano Guzzi e dal corrado Arturo Montanari, il benefattore. Impegnate 20 associazioni che mostreranno la loro attività e daranno vita a una moltitudine di eventi. Ed è diventato in questi anni sicuramente un centro culturale, un centro di riferimento, anche perché è posizionato proprio nel cuore della città. La Memo è un crocevia di tante attività. Emergenza A, c'è la protezione civile. La protezione civile, il Cibiclè Mattei, dà una mano per fronteggiare questa emergenza. Tante le richieste, soprattutto degli anziani, ma aumentano anche i ricoveri in ospedale. E quindi insomma vedete forse le due categorie più a rischio, diciamo, e più insomma soggette ad avere problematiche. Bambini e anziani vuoi per i rischi della disidratazione ai quali si può andare incontro e vuoi anche per questioni di salute. Si attende una tregua alle alte temperature, ma è già allarme con l'arrivo del weekend. Quindi Cibiclè Mattei all'azione. Sinistra Unita, siamo alla politica, incontro pubblico con sindaco e assessori. L'intervento di Mascarin, che sdogana il bilancio, però per il 2016 chiede molto di più. La Giunta, dicono, dia il via a quel cambiamento promesso rispetto agli esecutivi che l'hanno preceduta. E questa è la richiesta di Sinistra Unita. L'ultima pagina che vi facciamo vedere per questa rassegna stampa, l'Hotel Vittoria. L'Hotel Vittoria che deve come zona essere riqualificata. L'ultimo atto in consiglio è la variante per costruire l'imponente centro multifunzionale. Anche le opere accessorie sono al centro di questa variante. Le opere compensative riguardano anche la realizzazione di un nuovo argene sinistro del torrente Arazilla che scorre poco lontano da lì. E Saltara, anche Saltara, dà il via ai lavori socialmente utili per i migranti. E appunto è il primo comune dell'entroterra che firmerà il protocollo in prefettura. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevamo vedere. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Questa sera vi ricordo l'informazione con occhio alla notizia alle 20.30 e la rassegna stampa invece tornerà domani mattina alle 7.30 puntuale. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie a tutti.